Il 2022 si chiude bene, noi avevamo previsto circa 775.000 vendite di unità immobiliari e abbiamo ricevuto ieri dall'Agenzia delle Entrate l'informazione provvisore che addirittura forse si arriverà a 785.000 unità immobiliari residenziali compravendute, quindi da un 3,5% addirittura a un 4,7% in più rispetto all'anno precedente. Per cui diciamo che il mercato immobiliare è sano, che continua a progredire negli anni e prevediamo per il 2023 che ci sia una stabilità e si continua su un settore del genere. Quello che manca forse è un'offerta di immobili da vendere e anche da allocare, quindi c'è questa piccola crisi che c'è una forte domanda ma un'offerta inferiore.